Ciao ragazzi, ciao ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video! Mi è appena arrivata questa bellissima box dalla Chica Boom che contiene i nuovissimi 12 magici fiocchi pop star. Dopo il grandissimo successone acquisito dagli charms, sempre della Chica Boom, sono arrivati loro, ma prima di vedere di che cosa si tratta e di andare in postazione, sigla! Ed eccomi qui in postazione con la bellissima box dei fiocchi pop star prodotti dalla Chica Boom che potete trovare in edicola proprio in questi giorni. Dopo infatti il successone degli charm pop star, sono arrivati questi bellissimi 12 magici fiocchi tutti da collezionare. Guardiamo questa splendida box che già appare veramente così pastellosa, tutta subito da spacchettare. Nella parte del lato vediamo che possiamo trovare 6 diversi fiocchi stile unicorn, quindi Candy, Acqua, Dreamy, Unicorn, Moon e poi Star. Questo è davvero carinissimo. Dall'altro lato invece ci fa vedere la checklist di quelli che sono i modelli che invece vengono chiamati Siren, i modelli che hanno le paillettes reversibili che con un tocco cambiano colore, così come gli charms che per l'appunto erano stati prodotti sempre dalla Chica Boom pop star. In questo caso possiamo trovare Ariel, Emerald, Rainbow, Perla, Corona e Princess. Questo per quanto riguarda appunto i modelli Siren. Passiamo ora ragazzi invece a spacchettare tutte queste bellissime blind bag, soprattutto pastellosissime e carinissime, al costo di 4,99€ le potete trovare in edicola. Anche qua nella parte posteriore della blind bag tutta la checklist per quanto riguarda sia la collezione Siren che la collezione Unicorn. E adesso spacchettiamo insieme almeno una coppia di ognuno dei due stili per vedere se troviamo tutti i bellissimi fiocchi. Poi invece gli altri li spacchetterò e ve li farò vedere già spacchettati e quindi già pronti. Allora iniziamo subito con il primo fiocco che è della collezione Siren. E' un bellissimo fiocco come vedete, fatto di paillettes, che passa dal bianco al rosa. Questo modello si chiama Perla. Guardate, ognuno dei fiocchi inoltre contiene un tag che presenta per l'appunto il fiocchettino caratteristico di Popstar Chica Boom. Inoltre, come vedete, il fiocchettino si presenta in questo modo, ovvero con un becco in modo tale che lo possiate infilare tra i capelli, farvi qualche acconciatura oppure anche applicarlo, diciamo, al vostro giacchetto piuttosto che allo zaino. Insomma, un bellissimo fiocco che potete utilizzare per un look wow magic, esattamente come sostiene lo spot Chica Boom. Questo modello Perla è davvero bellissimo. con questi colori reversibili, come vedete, che cambiano in un tocco e devo dire, ragazzi, che il macramè è molto, molto compatto e ben definito. Quindi, per quanto riguarda lo stile Siren, il primo che abbiamo trovato è questo bellissimo Perla. Vediamo ora di continuare il nostro spacchettamento. Wow, che bello, guardate, ragazzi, che bei colori. Questo, invece, è della collezione Unicorn. Guardate come è bello, guardate, ragazzi, che colori. Questo è unicornosissimo. Questo è davvero, davvero bellissimo. Lo tolgo dal cartoncino. Anche lui, naturalmente, come gli altri, ha il suo becco a clip. Come vedete, guardate, ragazzi, che colori. Tutti i colori dell'arcobaleno, questo modello dovrebbe essere star. Per quanto riguarda la serie, ovviamente, Unicorn. Anche lui con il bellissimo tag, con il fiorellino caratteristico appunto della Chica Boom. Pearl Pop Star. Bellissimo anche questo. Continuiamo il nostro spacchettamento. Abbiamo qua un altro modello Siren. Quindi un altro modello con le paillettes reversibili che cambiano colore con un topo. Questo, guardate, ha tutti i colori dell'arcobaleno. Non per niente si chiama Rainbow, appunto. Guardate come è bello. Guardate che colori luccicanti. Sono davvero stupendi. Anche lui, il tag con il fiorellino. Veramente stupendissimi e carinissimi. E con un tocco, appunto, cambiano colore. Questo mi piace davvero parecchio perché è davvero luminosissimo e immagino che per un'acconciatura, per voi ragazze, possa creare un look veramente fantastico e innovativo. Andiamo ora a spacchettare un'altra. Che bello questo, ragazzi, davvero. Credo sia il più bello che ho aperto sinora. Questo è dello stile unicorn, ovviamente, guardatelo. E questi unicorni mi ricordano tantissimo i My Little Pony dei miei anni, degli anni 80. Guardate che colori pastellosi e soprattutto quanto è carino. Un macramè, anche in questo caso, veramente molto, molto compatto. Quindi c'è parecchio materiale, quindi è molto solido. Come ben vedete, si tratta di fiocchi, ragazzi, fatte davvero, davvero bellissime. Anche in questo caso lo Charms, un colore pastellosissimo e questi unicorni sono davvero bellissimi. Quindi anche lui, per quanto riguarda lo stile unicorn. Ne ho spacchettati quattro, adesso quindi vado a spacchettare tutti gli altri otto che mi rimangono qua, per vedere se ho completato la collezione dei dodici fiocchi Pop Star. Eccomi qua, ragazzi, sono andato avanti con lo spacchettamento e guardate, guardate i primi sei modelli per quanto riguarda il Siren Style glitterato che cambiano colore con un tocco. Sono davvero, davvero luccicosissimi, pucciosissimi e bellissimi tutti quanti. Questo che vedete qua è il modello Ariel, questo è il modello Perla che abbiamo visto insieme poc'anzi, questo è il modello Emerald con i colori che tendono al verde, questo invece tendente al rosa e argento è il modello Princess, questo invece con i colori sul rosa e il giallo è il modello Corona, e infine quello che abbiamo visto insieme, guardate ragazze che luce, il modello Rainbow, l'ultimo per quanto riguarda la collezione Siren glitterate e reversibile. Più sobri, eleganti e pastellosi invece, guardate che belli questi fiocchi ragazzi, quelli unicorn style, gli altri sei, abbiamo quindi completato la collezione. Guardate ragazze che colori, abbiamo questo bellissimo fiocco che si chiama Acqua, poi abbiamo quest'altro arcobalenosissimo e pastellosissimo che si chiama Dreamy, abbiamo poi Candy, questo bellissimo fiocco, tutti guardate ragazzi hanno gli charms, e questo ha anche questi bellissimi strass, poi passiamo al mio preferito, quello che mi ricorda tantissimo, i My Little Pony, ovvero il fiocco unicorn, e poi sempre con questi strass, il bellissimo fiocco Moon, tendente questo un pochettino più al violetto, e infine l'abbiamo visto poc'anzi insieme, arcobalenosissimo, dai colori accesi, pastellosi, è veramente bellissimo, con tutti questi unicorni invece il modello Star, guardate quanto quanto sono belli anche questi altri sei fiocchi pop star della Chica Boom! Ed eccoci qui ragazzi, come vi avevo promesso, non vi avrei deluso, questi 12 fiocchi della pop star sono davvero spettacolari, quindi mi raccomando correte in edicola e collezionateli tutti, vi lascio qua sotto, ma rivedete passare anche in sopra impressione tutti i riferimenti della Chica Boom, a partire dagli shop e dal sito internet www.chicaboom.com, all'infoline con il numero telefonico e all'indirizzo mail info.chicaboom.gmail.com, non dimenticate inoltre di seguire anche Chica Boom nei suoi profili Instagram e Facebook, sempre con il nick di Chica Boom World, non dimenticate inoltre ragazzi ovviamente di seguire anche me su tutti i miei social, a partire da Instagram, TikTok e Twitter con il nick del Re del Tubo, al mio gruppo Facebook Sosteniamo il Re del Tubo, sempre per quanto riguarda Facebook vi trovate anche e mi raccomando iscrivetevi nel gruppo Giocattoli da Collezione e non chiacchiere e molto altro, vi organizziamo davvero tantissimi giveaway, contest e tanto 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 altro. Noi ragazzi con un prossimo video ci vediamo la prossima settimana, quindi non presto ma prestissimo, mettete un like e condividete questo video se vi è piaciuto e un bacio grande a tutti voi, ciao ragazzi grazie! Grazie a tutti!